Non ho parole, veramente, quel momento che aspettavo da sei anni, giuro, a prenderlo così in mano, a guardarlo, finalmente, finalmente, con il nome e cognome e la foto, è regola. Alhamdulillah, adesso posso mettere nel portafoglio? Che cosa è possibile? Prima cosa, un contratto di lavoro. Seconda cosa, andare al paese. Poi dopo, costruire il sogno che tu sognavi dapprima. Tutte le cose che puoi fare adesso hai la possibilità di farla. Tutte le cose che ormai non hai paura. Non hai paura anche di perdere un lavoro, come prima, perché si scopre che tu non hai il documento così. Si viene un controllo nel lavoro e poi vedi che non hai permesso di soggiorno. Adesso puoi andare tranquillo, anche in giro, tranquillo. Puoi girare dove vuoi, quando vuoi. È una cosa molto diversa, molto diversa. Finalmente posso fare la patente, anche se non so godare. Mi insegni tu. E' un'altra cosa, anche se non so godare. Grazie a tutti